Queste voci vengono dal mare. Uno dei grandi documenti dell'ultima guerra. Una raccolta di lettere scritte da studenti giapponesi combattenti su tutti i fronti dell'estremo Oriente, sulle montagne della Cina, nelle isole del Pacifico, nella giungla birmana. Appartenevano a tutte le specialità delle forze armate. Kamikaze, piloti suicidi, piloti dei siruli umani, detti kaiten, Marinaia e Fanti Ryoi Uebara Ho vissuto per vent'anni senza preoccupazioni. Ho passato giorni felici accanto ai miei genitori che mi adoravano, ai miei fratelli e sorelle che sempre mi incoraggiavano. Sono diventato un po' capriccioso e ho dato molte preoccupazioni ai miei. Provo un dolore insopportabile quando penso che non potrò mai ricambiare tutto quello che mi hanno dato. Questa vita di pilota è un'anticipazione alla morte. Ogni frase, ogni parola che pronuncio è un po' come il mio testamento. Quando volo, la morte non mi sembra affatto spaventosa. Crederò veramente alla morte. Nel giorno in cui ancora vivo, mi tufferò impicchiata con il mio apparecchio per andare a sfracellarmi su un bersaglio. Già parecchie volte ho avuto la tentazione di lasciarmi cadere così. Non avevo nessuna paura, anzi, sarei stato felice di poter morire, perché sono convinto che in cielo troverò Tatsu, il mio fratello maggiore. Ritrovarlo è tutto ciò che desidero. Ho sempre pensato che il Giappone deve adottare un regime liberale se vuol durare eterno. Forse è ridicolo dire questo oggi, mentre il paese è signoreggiato da un regime totalitario. Tuttavia, a pensarci bene, nulla più del liberalismo sembra consono alla natura umana. Credo sia possibile prevedere la vittoria o la sconfitta di un paese in base alla dottrina seguita dal suo governo. Quando questa dottrina è conforme alla natura profonda dell'uomo, la certezza della vittoria è più accecante della luce di una fiamma. Il mio ideale è stato distrutto. Per l'individuo, la grandezza o la decadenza di un paese è un argomento di suprema importanza. Su scala universale non ne ha nessuna. Nella mia camera troverete i libri che ho lasciato nel cassetto di destra del mio cassettone. Se non si aprisse, levate il cassetto di sinistra e togliete il chiodo che lo trattiene. Abbiate cura della vostra salute. Salutate per me mio fratello maggiore, mia sorella Kioko e tutti. Addio. Addio per sempre, miei adorati genitori. Ryoi. Iasuo Ikijima 20 aprile 45 Ho passato una giornata molto tranquilla. Non ho visto i miei, ma ho incontrato alcuni vecchi compagni e ho potuto chiacchierare tranquillamente con loro. È stato veramente piacevole. Non ci rivedremo mai più. Era meraviglioso potersi dire addio in questo modo, senza che la nostra conversazione fosse turbata dalla tristezza o dal dolore. Non riesco a credere che devo morire entro una settimana. Non sono né triste né nervoso. Quando tento di immaginare il mio ultimo istante, tutto mi sembra un sogno. Non sono certo di restare così calmo fino al momento di morire, ma mi sembra che sarà facile. 21 aprile 45 Questa mattina ho sostenuto le prove di volo. Mi ha emozionato, quando sono uscito, vedere i meccanici affaccendati attorno al mio apparecchio. Alle 7.40 ho superato l'ultima prova fondamentale. Tutto è andato bene e ho eseguito il mio ultimo volo di pilota di assalto speciale nel cielo sopra Zucchiura, volando in tutte le direzioni per quanto tempo ho voluto. Da molto tempo non salivo su un aeroplano. Nonostante tutto era molto divertente. Di lassù ho dato un ultimo addio ai miei compagni. 23 aprile 45 Recandomi alla spiaggia per una nuotata, ho vagato lentamente per la campagna. Può darsi che domani diceva l'ordine di partire per l'attacco. 23 anni di vita stanno avvicinandosi alla fine. Non ho l'impressione di dover morire domani. Sono qui, in questo paese del sud, ma non posso indurmi a credere di essere qui per andare ad attaccare la flotta nemica, zettandomi contro i loro cannoni e i loro apparecchi. Indugiando al margine dei campi, con l'asciugamano sotto braccio, ascolto il frinire delle cicale e il gracidare delle rane. Rivedo la mia fanciullezza. Quanto sono belli i fiori di loto bagnati dalla luce lunare. Il paesaggio mi rammenta quello di Kawasaki, in estate. Com'era dolce ricordare il mio paese natale e le gite che facevamo in famiglia. Sono tornato nella mia camera, ma la luce elettrica manca. Il petrolio brucia in una latta e la fiamma proietta contro il muro le nostre ombre fluttuanti. È una serata calma. Mi addormento guardando una bambolina. 24 aprile 1945 Attendo gli ordini e il mio cuore è leggero. Nella stanza vicina qualcuno suona una fisarmonica a bocca. Chi può vivere lontano dalla terra natia? La pacifica atmosfera del sud si circonda. Non sapendo che fare, sono andato a cogliere fiori di loto, ma non ho nessuno a cui offrirli. Mi ho messi tra i fiori di pero. Ho evocato ricordi lontani. Poi sono andato a nuotare nella notte oscura. In una camera vicina fanno chiasso e bevono. Dopotutto fanno bene. Io preferisco attendere la morte in pace. Sono ansioso di comportarmi bene fino all'ultimo, tanto più che appartengo al gruppo speciale d'assalto, incarnazione dello spirito cavalleresco del Giappone. Devo esserne degno. Grazie a Dio e all'affetto di coloro che mi circondavano, ho potuto condurre una vita onorevole. Finora la strada che ho percorso è stata molto più bella di quanto potevo sperare. Sono molto onorato e fiero di offrire al mio paese, che amo infinitamente, una vita pura. Ikizo Hayashi Mamma, è giunto il momento di darti una triste notizia. Tu mi ami più di quanto io sarò capace di amare te. Che penserai di questa lettera? Sono triste e disperato. Sono stato veramente felice. Forse troppo viziato. Ma non è colpa mia. Ti volevo bene ed era così bello essere circondato dal tuo affetto. Sono lieto di essere stato scelto come pilota di un gruppo speciale d'assalto, ma non posso trattenere le lacrime pensando a te. Hai fatto del tuo meglio per educarmi, per aiutarmi ad affrontare il futuro. Sono molto triste di dover morire senza averti dato nulla in cambio. Ne gioia, ne serenità. Non ti posso chiedere di fare questo sacrificio, di rinunciare a me e di essere fiera della mia morte, per quanto gloriosa possa essere. È meglio non parlarti più di tutto questo. Non ho osato rifiutare la fanciulla che tu mi avevi destinato. Non volevo perdere neanche un po' del tuo affetto ed ero così felice di ricevere le tue lettere. Avrei voluto vederti ancora una volta per parlare con te e addormentarmi nelle tue braccia, ma il solo luogo dove avremmo potuto incontrarci per l'ultima volta era Mogi, perché oggi è l'antivigilia della mia partenza, l'antivigilia della mia morte. Forse volerò sopra a Cata. Ti tirò addio dall'alto della mia carlinga, tra le nubi. Mamma, tu sognavi uno splendido avvenire per me e io sto per deluderti. Non dimenticherò mai le tue ansie quando avevo gli esami. Mi sono arruolato in questo gruppo contro il tuo parere, ma ora confesso che avrai fatto meglio a seguire il tuo consiglio. Pensa di confortarti, pensando che io sono un ottimo pilota e che molto raramente viene scelto per una tale missione un avviatore con così poche ore di volo. Quando sarò morto, avrai ancora Machio. Preferivi me perché ero il maggiore, ma, credimi, Machio vale più di me e sa curare gli interessi della famiglia. Avrai anche le mie sorelle, Chigioco e Iroco, e i tuoi nipotini. Vivi nella gioia. La mia anima sarà sempre presso di te. Le tue gioie saranno mie, ma se tu sarai triste, lo sarò anch'io. Talvolta provo la tentazione di ritornare da te, ma sarebbe una vigliaccheria. Quando fui battezzato, il sacerdote pronunziò su di me queste parole. Rinuncia a te stesso, lo ricordo molto bene. Mi affiderò alle mani del Salvatore. Prima di morire trapassato dai proiettili americani. Poiché tutto sta nelle mani del Signore. Non esistono né la vita né la morte per coloro che vivono in Dio. Gesù stesso ha detto, sia fatta la tua volontà. Leggo ogni giorno la Bibbia e allora mi sento vicino a te. Mi setterò sul nemico con la Bibbia e il libro dei Salmi nell'apparecchio. Porterò con me anche il distintivo della missione che mi fu dato dal direttore della scuola e la tua medaglia. Forse non ho preso quella faccenda del matrimonio con molta serietà. Non vorrei dare l'impressione di mancare di rispetto alla mia fidanzata e alla sua famiglia. Potresti far capire loro che è meglio troncare. Volevo veramente sposarla. Sarai stato ben lieto di darti quella felicità. Non ne ho avuto il tempo. Ti chiedo soltanto una cosa. Di perdonarmi. Ma posso andarmene in pace. Perché so che tu mi perdonerai sempre. Mamma, quanto ti ammiro. Sei sempre stata più coraggiosa di me. Sei capace di costringerti volontariamente a fare cose dolorose. E a me questo è impossibile. Il tuo solo errore è stato di avermi viziato troppo. Ma io stesso l'ho voluto. E non te ne rimprovero. Quando mi abbatterò sul nemico, pregherò per te. Perché tutte le tue preghiere siano esaudite. Ho chiesto a Ueno di portarti questa lettera. Ma non farla mai vedere a nessuno. Me ne vergogno. Ho l'impressione di non essere io colui che la morte aspetta. Quando penso che non ti rivedrò mai più, mi sento infinitamente triste. Minoru Tsutsuki Padre, madre, mi perdonerete per non essere stato sempre un buon figliuolo. Avrei voluto diventarlo, ma non ne ho più il tempo. Sto per morire. Nonostante le vostre scarse possibilità, mi avete permesso di studiare prima al liceo, poi all'università di Tokyo. E ora, al momento in cui finalmente avrei potuto ripagarvi di tutto quello che mi avete dato, devo morire. Per assistervi, le mie sorelle hanno rinunciato a sposarsi e hanno preferito fare le insegnanti elementari. Non trovo parole per esprimere loro la mia riconoscenza. Per pagare i miei studi, voi avete lavorato dal mattino, quando la luna è ancora in cielo, fino all'ora in cui appaiono le stelle. Non potrò mai ricompensarvi per i vostri sacrifici e la vostra devozione. Morirò. Non so come scusarmi. Presto il mio corpo sarà morto, ma la mia anima rimarrà accanto a voi, vicino al Signore Buddha. Non piangete, padre, madre, e voi, mie sorelle. Ve ne prego, sarò sempre al vostro fianco, lavorando, prendendo i miei pasti, felice o triste. Verrà l'autunno, il frinire delle cicale, la foresta spoglia delle sue foglie e l'inverno vi ricorderanno la mia morte. Ma non piangete. Abbiate cura della vostra salute e siate coraggiosi. Vi auguro una vita felice. La bomba atomica che cadde il 6 agosto aveva una potenza terribile. Mi ha provocato ustioni al viso, al dorso e alle brazza. Muoio ringraziando i medici, la infermiere e tutti i miei amici per le loro cure e la loro gentilezza. 25 agosto 1945, 9 di sera. Minoru Suzuki Minoru Suzuki Minoru Suzuki Minoru Suzuki Minoru Suzuki Grazie a tutti